Ecco, sta arrivando ora l'altra compagnia, come l'avevo già annunciata prima, ed è la compagnia Lampo. La compagnia Lampo è stata fondata nel 1954, ha 200 componenti, sebbene sia un gruppo fondato con il Carnevale, ha raggiunto il successo molto tardi, ma in maniera certa. Negli ultimi 15 anni solo è al quinto posto come bilancio negativo, mentre moltissime vittorie, senza ombra di dubbio. Deve il suo successo principalmente alla banda e alle accuratezze dei costumi. Lampo for Africa, un augurio che non succeda nulla di quello che la gente può vedere o può sentire in questi giorni dalla televisione o dalla radio. Tanti e tanti costumi, qui si tratta della compagnia di Santa Barbara. Ci sono problemi di calore, dicevano in questi giorni, hanno sbagliato tema, perché parlare di Africa proprio in questi giorni quando fa freddo? Spero che portino un po' di caldo, probabilmente, questi che sono venuti dall'Africa, perché il freddo qui ci sta assillando. Assillando, anche se non abbiamo sotto lo zero, comunque stare qui impalati per quasi due ore è un po' di freddo. Comunque la pilata sta svolgendosi nel migliore dei modi. Le compagnie sono tutte spiritose, hanno partecipato molto bene, i soggetti sono intivati, molto belli. Ed ora vedremo che cosa ancora ci presenta questa compagnia con Lampo For Africa. Diciamo che hanno voluto rappresentare l'Africa più genuina, quell'Africa che noi abbiamo nel cuore, quella che abbiamo sempre sognato, quello che ci hanno mostrato i libri di scuola, però con tutti quei problemi che ci vengono portati appunto, che hanno l'Africa, gli aiuti, per esempio, gli aiuti all'Africa che vengono dati in Snell Fast. Avrete sentito che si tratta di una fregata, la fregata è quella che ha mandato l'Italia, secondo la compagnia Lampo, e ha mandato con degli aiuti particolari dall'Italia. Diremo qualcosa sui costumi che starete vedendo in questo momento, che sono i costumi meravigliosi, fatti tutti con la pasta, qui naturalmente se sia Barilla, Buitoni o qualche altra marca non si sa. Hanno ricreato carnavellescamente tutti i costumi più particolari dell'Africa di oggi, di quello che è rimasto dell'Africa tradizionale naturalmente. E qui vediamo, man mano arriverà, vedete anche sui vostri schermi, arriverà la banda della compagnia Lampo, Lampo for Africa, che è vestita anch'essa nel costume africano. Ed eccoci al carro grande della compagnia Lampo, Gheddafi che con una banda in mano dice Gheddafi for the world, naturalmente Gheddafi per il mondo. E il continente Africa purtroppo oggi si trova in un momento un po' particolare. Sì, certo, questo Gheddafi enorme che state vedendo sul teleschermo, l'avete già visto, è veramente simile al Gheddafi vero. È veramente una satira molto ben fatta con gusto, veramente con sugo. Questo Gheddafi che tiene su il mondo. Osservate bene. Penso che il nostro commento non vale, ma valgono invece queste immagini che state vedendo sul vostro teleschermo. Ed eccoci ancora ad altri particolari di questa sfilata, altri personaggi. Mentre rivedete il carro dalla parte posteriore, il carro della compagnia Lampo. La compagnia Lampo di Santa Barbara. Gli unici che ancora ricostruiscono il loro carro nella zona di Santa Barbara, sotto la trattoria sociale. Costumi veramente molto belli, molto simpatici. e si parla di Africa e sono costumi che ci fanno vedere l'Africa com'è. Ecco, io posso dire ancora che la compagnia Lampo è la compagnia che ha vinto anche lo scorso anno. Ha fatto, ha totalizzato otto vincite assoluti in questi anni qui del Carnevale Muccesano. Un ex equo con la compagnia Brivido. Ma otto assoluti vittorie, otto vittorie assolute in questi trent'anni di Carnevale Muccesano. Ed eccoci a una Cusina del Campo, Cusina del Campo, Lampo Picnic, dove naturalmente c'è il negro civilizzato che sta mettendo dentro nella pentola il classico esploratore. Altri ancora, questi sono veramente molto simpatici, molto simili a quelli che sono i costumi dell'Africa di un tempo. Io posso dire che scegliendo questo argomento si sono sbizzarriti anche con la fantasia, perché nell'Africa si può rappresentare ore con le ore, si possono rappresentare tutte le tribù che vivono in Africa. Ecco, c'è anche la pensione Mandela, come potete vedere. Ecco qui, dicono siamo incazzati neri, metto un litro oggi che una botta domani. Ci sono le varie insurrezioni che ci sono nel continente africano, non ultima segregazione razziale nel Sud Africa. E' naturalmente un finale con i venditori, i venditori che tutti conosciamo, di sigarette e amnicoli vari, anche quelli nostri. Siamo arrivati anche qui a Muggia, naturalmente, per il carnevale, questi venditori che vendono a Vorio, collate. Ecco, stiamo vedendo lavori di casa, naturalmente a Muggia, come tutto il resto. Ci siamo.